perché adesso Sergio a differenza di tutti gli altri è un fortunato è andato in pensione e quindi è fortunato gli altri non sono in queste condizioni tra parentesi altrimenti non ci sarebbe motivo per fare la colazione io sono un fortunato tra virgolette però me la sono anche creata perché mi sono dato 35 anni di lavoro quindi è una fortuna che bene o male me la sono creata io ho voluto far parlare e lo ringrazio perché non ci è non ci è rifugiato dietro nulla ho voluto far parlare appunto Sergio perché a voi che state ascoltando vi arrivi esattamente la realtà di quello che c'è dietro una persona che voi vedete attaccata al muro di un marciapiede allora molte volte c'è quel rifrangersi spontaneo per carità poi mi chiede i soldi allora uno io tutte le volte che mi sono apprestato a persone che vivono in mezzo alla strada ho trovato una dignità clamorosa nel senso che poi sono andata ad offrire cose eccetera ho sempre trovato un netto rifiuto perché mi hanno spiegato poi che alcuni temono che dentro ci sia del veleno nella cibaria che ci sia delle cose insomma sono diffidenti perché tanti sono stati uccisi in questo modo no perché poi ci sono anche quelli che gli danno fuoco quelli che li vanno ad avvelenare quindi c'è una diffidenza perché io mi facevo sorpresa di questa diffidenza ma come mai sul cibo sul cibo ma tutto il resto è di fatto diciamo io io sono stato in lite buonariamente parlando con la la polverini che tutti sanno chi è e con alemanno per un motivo semplice allora io ho dormito per anni dentro i centri via Marzala via Sisi e compagnia a me queste cose dove dormivo è una cosa come era con un cibito mi veniva da ridere ma mi sentivo non lo so era una cosa fuori del mondo per me come si fa a dire a una persona tu vai a dormire lì da ah perché c'è l'emergenza freddo poi finita quella te lo torni per strada non è vero primo l'emergenza nostra esiste tutto l'anno perché come ha detto lei uno dorme per strada su marciapiede arriva il pischiello che si vuole divertire gli da fuoco è successo è successo arriva l'ubriaco che c'è altro problema tra noi che c'è l'alcolismo è un problema notevole che si vuole divertire quindi l'emergenza c'è sempre non è che finisce poi seconda cosa non è che i centri i centri che ci sono dovrebbero essere gestiti in maniera diversa forse un po' più di umanità perché se lei va in tanti centri si rende conto che l'umanità siamo sinceri però allora l'omless esiste in tutto il mondo fatti salve qualche io credo è così felice che potremmo interpretare come Svezia potremmo interpretare come altri Lossemburgo Lossemburgo dove io non ne ho mai visti perché poi informandomi ha detto perché qua li prendiamo e li mettiamo dentro le case mi hanno detto però per il resto ho visto homeless da tutte le parti ho visto senza tetto da tutte le parti è ovvio amico mio Sergio che parliamo di un disagio ed un disagio non può essere poi a quel punto rapportato ad una condizione di vita normale come lei giustamente recrimina perché dice se io vado in un centro d'accoglienza io voglio l'accoglienza l'accoglienza è sì materiale ma ancora prima è spirituale no oggi non gliene frega più niente a nessuno perché viviamo un'umanità decisamente mediocre per non dire pessima quindi per cui il disagio lo dobbiamo concepire come nostro però lei ha ragione quando dice attenti perché qui non è questione solo di freddo qui è questione che se io accetto un pasto con leggerezza magari ci stiro le zampe perché ci ha messo del veleno o quant'altro però no io darò sempre voce a tutto questo perché dal mio osservatorio per quello che può contare la nostra radio la gente deve capire che dietro una persona che noi incorciamo per strada c'è una storia che il più delle volte non sarebbe densissima intensissima addirittura in questo caso come poi ha raccolto il regista Marco Marco Carlacini viene espressa in teatro e io vorrei che tu aggiungessi notizie in merito a questa operazione in teatro sì sì però una premessa a chiusura del vostro discorso io credo che i nostri senza detto perlomeno le persone che io ho avuto il piacere di conoscere possono avere di più del semplice posto letto del semplice pasto possono avere la possibilità di tornare nella vita di tornare in un circuito e questo è quello che noi così nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare attraverso questa operazione e devo dire che le difficoltà ci sono e come ed è chiaro è chiarissimo che queste persone hanno perduto sono scesi da una giostra e non riescono a salirci questo è assolutamente evidente si può vedere i mille i mille dettagli del nostro lavoro noi lavoriamo in questo momento con loro sulla costruzione di alcune coreografie quindi sul ritmo quindi sui tempi e lì si vede che c'è una difficoltà a mio avviso la maggior parte di loro hanno una una difficoltà di coordinarsi con un orologio comune un tempo comune è difficile da trovare c'è uno sradicamento che da una parte è difficile da ricostruire di ricostruire un tessuto di relazione perché d'altra parte come tutti i gruppi sociali mi sembra che oggi sia difficile comunicare sia difficile elaborare un progetto comune tutti noi anche nel nostro campo anche per attori se ti metti lì dieci attori insieme a sviluppare un progetto magari nel giorno in cui si elabora il progetto è tutto rosa e fiori poi cominciano le discussioni e lì voglio dire rapidamente e anche nel loro mondo esiste esiste questo però c'è un dettaglio che è molto importante loro a mio avviso sono molto portati invece a celebrare il gruppo per cui c'è una mutua assistenza fra loro e questo sostiene il gruppo ed è una meraviglia quando noi li vediamo in scena con tutte le loro diversità con tutte le loro difficoltà ma ci offrono un miracolo che nel teatro non siamo abituati a vedere c'è tanta umanità lì e questo è quello che noi sentiamo di poter proporre come primo passaggio perché no secondo passaggio ne abbiamo cercato ma credo che non riusciremo a farlo perché non abbiamo gli strumenti di organizzare un sistema che dia la possibilità di lavorare a queste persone perché no ci sono in mezzo noi abbiamo professori di educazione fisica abbiamo c'è di tutto c'è impiegati potrebbero ritornare a fare la loro professione io ho paura però che il cittadino che la persona a cui ci riferiamo in questo momento in qualche modo preferisca che loro che preferiscono che loro rimangano lì a offrire un'immagine di debolezza di una perché questo li rimpannuccia è questo che dicevo all'inizio perché li conforta è questo che dicevo all'inizio perché quando vedi una persona in difficoltà ti autoconforti nella tua pochezza nella tua medicalità certo riesci anche a autoesaltarti ovviamente io non sono così che bello è un meccanismo amaro ma è dell'umanità ho paura che sia più comodo dare l'elemosina al mendicante piuttosto che portarlo a casa e dirgli ma senti visto che stai fare questa cosa perché non vogliamo dire vogliamo dare le coordinate dello spettacolo allora noi saremo in scena con questo spettacolo la colpa dal 18 di maggio al 22 di maggio alla casa delle culture di Roma tutti i giorni alle ore 21 e 30 e soltanto la domenica alle ore 18 e avremo in scena 8 senza tetto 4 attori che rappresentano appunto i ruoli che vi dicevo e 6 noi li abbiamo chiamati murattori sono degli studenti bello il muro a cui si riferisce sono degli studenti che hanno un'esperienza però almeno decennale di teatro quindi sono molto bravi e rappresentano i muri della città quindi c'è anche una parte militare che insomma in alcuni momenti è coercitiva rispetto a questo molto bene molto bene ovviamente voi che siete in ascolto ne sentirete parlare ancora da me perché in prossimità dell'evento ve lo ricorderemo il 18 è mercoledì 21 ma noi ve lo ricorderemo così come ci sentirete ancora parlare di queste storie sono nostre ci appartengono a tutti siamo noi siamo noi e siamo sulla giostra una volta siamo in alta e vediamo il panorama una volta siamo sotto e patiamo l'effetto dell'essere sotto quindi siamo noi ed ecco perché io ringrazio ringrazio fortemente intanto Marco Carlaccini perché è un'opera importantissima quella che sta portando avanti e vi io ve lo dico perché i miei amici sono solo ve lo dico sempre attori musicisti allora queste cose le fai se le senti se le senti se non le senti ma neanche ti sfiorano e quindi posso apprezzare nella maniera giusta Carlaccini ancora più Calvello Sergio Calvello che ci ha raccontato una frangia della sua vita che però lo porta ad esprimersi e a porsi come una persona costruita una persona a posto una persona come siamo noi tutti con una parentesi che poi si è chiusa e con quello che va raccontato con quello che va raccontato vi ringrazio molto e vi faccio molti complimenti grazie a tutti vi aspettiamo a te certamente sì grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti